Il motivo della richiesta dei parametri semplificati non è parametri alleggeriti, rimangono sempre tali, rimangono sempre medici, rimangono sempre aritmetici e matematici, ma permettono una più facile comunicazione. Detto questo, il meccanismo cosa dice? Che quando tu hai un parametro da zona arancione, e noi il parametro da zona arancione l'abbiamo maturato venerdì 13 novembre, da lì partono 14 giorni in cui tu devi stare nei parametri della zona arancione. E questo è giusto, perché ti permette di consolidare il tuo dato. E quindi il periodo che noi stiamo vivendo, che ci porterà al 27 novembre, sarà il periodo in cui dovremo mantenere i dati e i riferimenti tutti sulla zona arancione. Poi da lì partirà il momento di confronto con il Ministro Speranza, io l'ho ancora sentito a lungo ieri, ci sentiamo quotidianamente, per il passaggio poi effettivo in zona arancione. Il che vuol dire gli allentamenti previsti dal DPCM. Quando poi sarai in zona arancione e avrai i numeri della zona gialla, riparte lo stesso meccanismo. Devi mantenere questi numeri 14 giorni per poi passare in zona gialla. Quindi dobbiamo essere tutti molto attenti e molto prudenti e avere tutti un grande senso di responsabilità. I dati sono buoni, li voglio dire perché bisogna anche dare una speranza certa e una prospettiva certa nei termini anche di date certe a chi oggi ha un'attività che ferma, a chi oggi è chiuso in casa, a chi abbiamo privato della libertà personale. Bisogna dare una prospettiva certa, ma nello stesso tempo bisogna essere sempre molto responsabili e quindi monitorare giorno per giorno questi parametri e le nostre azioni in funzione dei parametri di riferimento, che sono quelli del Ministero. Questo cosa significa che noi stiamo lavorando e oggi pomeriggio avremo alle ore 16 un lungo incontro con i nostri epidemiologi perché, e lo ribadisco anche qui, noi dovremo quando ci saranno gli allentamenti previsti dal DPCM, però prevedere delle azioni a livello piemontese condivise con i sindaci e con le prefetture che ci permettano di non rivivere quello che è successo, ahimè, in tutta Italia, un po' in tutta Europa nell'estate. Se noi immaginiamo di tornare in zona gialla e comportarci a livello nazionale così come è accaduto nell'estate, rischieremo, anzi, gli epidemiologi ce lo dicono con certezza, a gennaio-febbraio ritorneremo dalla stessa situazione. Non possiamo permettercelo perché questo stop and go uccide definitivamente. Quindi noi dobbiamo stabilizzare questa situazione, compiere questo percorso quotidiano, arrivare fuori dalla zona rossa ed essere già pronti quando vivremo di nuovo una pseudonormalità con misure regionali, che non vuol dire chiusure o aperture, quella è la disciplina del DPCM, ma vuol dire come ti comporti, vuol dire come tu affronti la socialità di tutti i giorni, le cose di tutti i giorni, i trasporti, la scuola, il mondo del commercio, della grande distribuzione, tutti i temi che io credo possano con buon senso essere affrontati in modo da permettere a chi deve lavorare di lavorare, ma non ripetere, ahimè, quest'idea che ha pervaso un po' tutto il mondo che nell'estate in qualche modo il problema fosse risolto.